Anche adesso alle groupies non riesco a dire no. L'amore è importante, l'amore è parte della vita e il piacere del fare sesso non passa nemmeno con l'età. Se trovo una donna che mi piace, la invito a venire da me. Dichiarazioni piccanti che non escono dalla bocca di un Mick Jagger qualunque, quanto piuttosto da quella dell'artista di Cellino San Marco Albano Carrisi, il maestro Salentino, dopo aver affrontato nei giorni scorsi il suo difficile rapporto con la fede e la sua lotta contro Satana, sconfitto per ben tre volte, cambia decisamente argomento e vira sull'idi più leggeri, quelli del sesso. In particolare Albano affronta il suo rapporto con le groupies, ovvero quella categoria di fan che, spinte dalla passione per la musica di un artista, lo seguono in tour, stando bene attente a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza della rock star di turno, un lavoro difficile, reso celebre da vere e proprie professioniste come Pazzi Kensit, un lavoro che Albano dimostra di apprezzare confidandosi con il portale tedesco Express.de. Senza mezzi termini, proprio come una rock star inglese anni 70, Lugo, la più famosa del Salento, ammette il suo punto debole, ovvero il sesso, quello che anche a 70 anni suonati resta un fidato passatempo da tour. E se tra le groupies c'è qualche ragazza capace di fare breccia in quel cuore racchiuso da una dura scorsa da contadino, Mastro Albano non sa dire no. Se trovo una donna che mi piace, ha dichiarato il cantante, la invito a venire da me. Non serve spiegare cosa succede nel dettaglio, vero? E no maestro, non serve. L'importante è che ci sia felicità e che certi segreti restino tali.